E' ancora acre l'odore che pervade l'aria dentro e attorno lo storcinese Aumai di Conegliano l'indomani dal devastante incendio. Colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Fiamme che hanno interessato tutto lo stabile di 4.000 metri quadrati che si trova nella circonvallazione a perafuori il centro città. Resta il giallo sulle cause che hanno fatto scoppiare l'incendio e su cui stanno indagando i tecnici dei vigili del fuoco, arrivati per un sopralluogo in mattinata per accertare anche l'agibilità dello stabile. E poi avremo anche un rilievo invece da parte personale e polizia giudiziaria per stabilire le cause dell'incendio, per stabilire eventuali punti di innesco e la modalità di propagazione dell'incendio. Anche se questo non è comunque semplice perché l'incendio ha coinvolto veramente tutto il volume locale, quindi un incendio generalizzato che maschera in maniera abbastanza notevole quello che potrebbe essere il punto di innesco dell'incendio. Secondo i primi rilievi le fiamme sarebbero partite vicino alle casse in prossimità di alcuni scaffali del reparto casalinghi. Sarebbe lì infatti che i vigili del fuoco hanno rilevato la maggior concentrazione di calore. Troppo presto però per definire quali siano state le cause scatenanti il rogo. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Incendio che ricorda quello che si era scatenato in un magazzino cinese a Preganziol nel maggio del 2023. In quel caso il rogo era divampato in piena notte, un atto doloso su cui pendeva l'ipotesi del racket. Il caso di Conegliano appare però più complesso e con molti punti interrogativi ancora da risolvere. Prima di tutto perché è divampato durante il giorno intorno alle 3 del pomeriggio quando all'interno c'erano clienti e dipendenti tra i dei quali sono rimasti intossicati e per questo soccorsi e portare all'ospedale. Per la catena di negozi Aomai non un periodo rosio. A maggio era stato infatti arrestato dalla guardia di finanza di Monza per una frode fiscale da 20 milioni di euro il proprietario Chen Wenzu a cui sono stati sequestrati beni e denaro per 6 milioni di euro. Market Aomai di Conegliano non di proprietà. I gestori di origine cinese sono infatti in affitto nello stabile di Livio Bernardi che da poco ha aperto un'attività proprio sopra il magazzino e che durante l'incendio ha assistito in credulo mentre le fiamme divoravano la sua proprietà. Uno dei primi a chiamare i soccorsi il direttore dell'attività di deposito. Sono arrivato per primo, purtroppo abbiamo chiamato i vigili del fuoco, le tubulanze e tutto di modo che non ci sia nessuno che si è fatto male. Ci siamo accorti, ho avuto un cliente che mi ha chiamato che era andato via subito prima di me e ha visto dalla parte delle casse che c'erano su incendio. Locali che sono stati per la maggior parte risparmiati dalle fiamme grazie ai dispositivi antincendio. I locali al piano superiore possono ritenersi agibili per a presto. Grazie a tutti